Non si sa mai, bella mira. Ehi, cos'è stato? Ah, merda. Sei stato tu, Tommy. Ehi, cos'è stato tu? 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 Oh, 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 oh. Sì, niente male. Bel modo di usare i manichini. Ok. Sì, niente male. Ehi, un'altra intrusa. Una ragazza. Dov'è andata? Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Rivoltate ogni singolo edificio. Abbiamo compasso... Charlotte! Credo arrivasse da quella direzione. Da quella... Prendi la bel! Prendiamola! 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 Ammazzala! Prendiamola! Sì! Bene. Sì! Sì, cercate, stronzi. Sì! 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 Grazie. 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 Sì, sì. 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 Non, 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 non. Eccolo è mio! Nel garage! Avviciniamoci! Cazzo! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vai, 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 non deve scappare. E tu che cosa ci fai qui? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse... Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Rivediamoci! È andata di là! Cazzo, sono tanti! Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Ok, vedi il funone. È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Sì. Ehi, usa il test. Che cazzo stiamo cercando? Un intruso. Di nuovo, cazzo. Ci servono più guardie sulle mura. Oddio. Oddio. Oddio! Impostata! Per l'ustriamo l'area. C'è qualcuno lì fuori. Niente male. Trovato niente? Qualcuno ha buone notizie. Zona libera. Gesù! Sherlock! Veniva da laggiù, presto! Un movimento. Vado io. Dio. Dio. Dio santo. Maledizione. Prendo le chiavi! Ellie! Ho le chiavi. Andiamo! Sally! Ok. Dai cavolo! Ti provo! Di più! Ehi, portassi via da qui! Mi sto provando! Cazzo. Oh! Attento! Alle gambe! Non mi sono voluti! Renditi! Ah! Vai, vai! Guarda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Dina! Oh mio Dio. Oh, Jesse. Ciao, Dina. Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Ah, è... Solo un mal di stomaco. Vieni. Mettiti comodo, ok? No, no. Ah, non devi, davvero. No, aspettila. Quando sei partito da Jackson? È il giorno dopo di voi. Ma in Oregon ho trovato troppo nero. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungere. Grazie. Grazie.